Matteo Bastianelli è stato dimesso ieri sera dall'ospedale di Urbino con uno zigomo fratturato, 13 punti di sutura al volto e decine di contusioni sparse per tutto il corpo. Nella stessa serata i carabinieri di Urbino hanno arrestato il suo aggressore, Simone Babbini, 37 anni, operatore scolastico, e ora recluso nel carcere di Villa Fastigi con l'accusa di tentato omicidio. Bastianelli e Babbini sono vittime e carnefice della mattinata di follia di ieri quando alle 6.45 il 46enne direttore del locale supermercato Cona di Fermignano stava attraversando la strada quando una Ford Focus gli sfreccia l'incrocio rischiando di investirlo. Bastianelli solleva un braccio in vendo contro la guida scellerata e per tutta risposta Babbini alla guida dell'automobile torna indietro investendolo. Dopodiché scende dall'auto con in mano un martello e comincia a colpirlo con violente martellate oltre che con calci e pugni. Una furia cieca che viene attenuata dall'intervento di un neturbino presente sul posto che induce l'aggressore a risalire in macchina e darsi la fuga, di fatto salvando la vita a Bastianelli. Segnalata la targa che a Rabiniere è partita la caccia all'uomo che è stato individuato. L'auto era parcheggiata vicino alla casa di un parente con uno pneumatico esploso dopo essere finito nel marciapiede per investire Bastianelli.